Buonasera, sta per andare in onda Social Evolution, il nuovo programma targato Radio Styles che vi racconterà come nasce una pagina social di successo. Tutti giovedì, dalle ore 22 fino alle 23 circa, conosceremo chi c'è dall'altro capo della rete e scopriremo che talvolta sono molto più vicini di quanto crediate. Il programma condotto da me, Luca, sono ovviamente affiancato dall'insostituibile Science alla regia e vi aspettiamo su www.radioscience.it. E ora si parte, via! E buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori di radioscience.it e ritorniamo in diretta oggi, 6 aprile 2017, alle ore 22, puntuali come ogni giovedì, vi racconteremo e ci faremo anche raccontare che ci sarà questa sera, quale pagina abbiamo portato questa sera qui con noi su Social Evolution, questo programma che appunto mira a farvi conoscere, a farvi scoprire chi si nasconde dall'altro capo della rete. Prima di iniziare, chiaramente, io passo subito la parola al grande e grosso Siles. Caro Saiuzzolo, com'è andata la settimana? Ciao Luca, buonasera a tutti quanti, la settimana è andata benissimo, benissimo perché abbiamo ripresa anche le trasmissioni del mercoledì, quindi insomma non poteva andare meglio, secondo me, che è meglio. Volevo entrare un po' con più pimpante, ma non ce la faccio perché stavo seguendo una cosa e mi hai preso il contropiede. Bene, allora, caro Luca, io saluto tutti i nostri amici del network, saluto il condominio di Radio Saiuzz, saluto l'ospite che non dico perché dopo ci penserai tu e faccio la lista della spesa come al solito. Quindi, cari amici, questa sera andiamo in onda, rete unificate, siamo sul Radio Reno Web di Casa Lecchio di Reno, Radio Favaro Veneto di Favaro Veneto, Radio Sismondi Libri di Salgareda in provincia di Treviso, Radio IS da Modena, Radio Valdichiana dalla Valdichiana, Modena noi radio sempre da Modena. Ovviamente siamo presenti anche su Radio Saiuzz e Radio Saiuzz Classic, il nostro canale classico. Per quanto riguarda la Web TV, siamo presenti sul Facebook, su Facebook, su YouTube e sul sito Radio Saiuzz.it. Ovviamente non vi dimenticate che la nostra chat è comune e comune a tutte le radio del network, quindi ovunque vi troviate, ci scrivete, noi vi leggiamo, sempre vi leggiamo, fate attenzione. Luca, io direi che per me è finita qua, vai! È finita qua, DJ è incredibile, è tornata pochissimo, mi piace sempre questa cosa delle riti unificate, mi sembra sempre di parlare con Mattarella più che con Sai, insomma va bene, sembra il discorso del Presidente. Va bene, saluto chiaramente l'ospite, questo che ci ha passato anche il testimone, l'ospite della passata puntata, ovvero Franco, ti ricordi quando? Che appunto ci ha raccontato, ci ha fatto anche riscoprire tante cose con la sua pagina, è stata ovviamente una puntata anche nostalgica se vogliamo, ultimo ringraziamento, lo faccio prima della diretta appunto a testa di caso che ricordiamo mi passerà e ci passerà tutti i messaggi che ci iscriverete in chat, sia sulla chat di appunto radiosites.it e sia ovviamente sulla pagina Facebook. Detto questo, finito il fiato, quindi partiamo con la diretta, saluto subito l'ospite, ciao Rita, come stai? Buonasera, benissimo e grazie per l'invito. Ma grazie a te che hai risposto positivamente, quindi io lo dico sempre, sembra una banalità, no? Però effettivamente sai, anche rispondere positivamente a un invito in cui devi andare insomma a fare due chiacchiere su una web radio non è così scontato se ci pensi. No, è un'esperienza di vita. Esatto, uno dice, è giusto, uno dice, beh, lunedì sera, cioè giovedì sera non c'è Walking Dead che è finito la settimana scorsa, quindi cosa farò mai giovedì? E quindi giustamente ci diamo a radiosites, vediamo questi qua cosa hanno da raccontarci. In realtà Rita, sarai tu a raccontarci qualcosa questa sera, perché effettivamente io così girando su questo mare magnum che è Facebook, mi sono imbattuto, in realtà in un'altra pagina se ti ricordi, che adesso poi ne racconteremo, però poi tu in qualche modo hai spostato l'attenzione su, diciamo, l'argomento di questa sera. Come si chiama la tua pagina, Rita? Allora, abbiamo la prima pagina che si chiama Gna posso fa, perché giustamente questa vita uno dice Gna posso fa più, e quindi nasce una pagina di divertimento. Poi abbiamo spostato l'attenzione su tutt'altro, per strada vedi le persone spettacolare, e succede una cosa, e tutti che stanno lì ad inciusciare, e quindi ho detto diamo vita a una pagina che tratta proprio di tutto ciò, degli inciuci, del gossip, spettacoliamo anche noi, e quindi nasce Spettacolando. Esatto, che tra l'altro poi Spettacolando.it poi è un blog, perché io lo sto leggendo proprio sotto mano tutto, e io sai che mi sono sempre molto attrezzato, perché odio ti giuro io detesto trovarmi impreparato, e questa sera farò molta fatica, perché Spettacolando.it, e qui adesso leggo, è un blog basato su gossip, scoop sui VIP, italiani e stranieri, anticipazione, reality, soap, news su VIP, programmi tv, reality e tanto altro. Cioè praticamente è una sorta di, come dire, Barbara Dulzo, no sto scherzando chiaramente, no però effettivamente c'è tanto materiale se vogliamo, dove io personalmente, così destreggiandomi sulla tua pagina, effettivamente mi sentivo un pochino in difficoltà. Quindi diciamo che questa è una di quelle puntate in cui ti farò parlare molto, te lo anticipo. Però diciamo che la prima domanda che mi viene da fare, ma è nata prima il sito, cioè il blog, o la pagina Facebook? È nata prima la pagina Facebook per gioco, te l'ho detto, per spettacolare sulle persone, poi pian piano il mondo è rosa, quindi mi sono messa nei panni delle altre donne, ho detto mai iniziamo a spettacolare sul segreto, le donne stanno sempre lì a cercare le anticipazioni del segreto, cosa succederà mai fra un anno, due anni, tre anni? Cosa succederà in quest'altra soluzione tra otto mesi? E quindi ho dato vita a questo blog dove metto tutte le anticipazioni, anche se a volte mi urlano perché dicono tu non devi scriverlo e intanto lo vanno a leggere. Esatto, lo spoiler. Tu non lo devi scrivere, però intanto lo leggono. Eh sì sì. Quindi la curiosità, la curiosità è donna. Eh già, eh già, infatti forse è per quello che mi trovo in difficoltà. Io invece penso che al contrario sono uno che evita in tutti i modi di rovinarsi la sorpresa adesso. E quindi se ci sono delle dinamiche che talvolta mi sfuggo nello spoiler effettivamente, però è una cosa che mi è piaciuta particolarmente come dicevi poi tu, non è solamente anticipazione poi c'è anche tanto gossip e quindi ho letto di tutto. Adesso la prima cosa che mi viene da dire, faccio un esempio, la butto lì, la prima cosa che si vede su spettacolando.it sito, quindi il blog, è Flavio e Breatore e Elisabetta Gregoraci si sono lasciati. Con punto interrogativo. Esatto, scusami. Allora una di quelle cose, io non so nulla di niente, no? Perché sono un maschietto che il gossip non lo segue, però questa cosa, cioè sapevo, so chi sono, so che stanno insieme. La prima cosa che vedo sulla tua pagina, sul tuo sito web appunto è questo, dico cavolo ma allora c'è, hai veramente le talpe, le spie, come fai? Come faccio? Ore e ore di ricerca davanti al tuo computer, avere una pagina Facebook o un blog non è facile. Una all'inizio apre, ecco, come ho detto prima, per gioco, poi inizia a stare incollata al pc un'ora, due ore, tre ore, quattro ore, poi dopo diventa un lavoro, perché tu stai ore e ore davanti a un pc dimenticandoti di tutto il resto che c'è fuori, quello che capita a mia. Cioè io mi sveglio la mattina, preparo il caffè, mentre esce il caffè accendo il pc. Sì. Certo che la volta che, la volta che, che ne so, la telecom ti stacca la linea in quella zona è un casino. Ho cambiato il gestore, l'ho detto. No, no, giusto, nel senso che mi rendo conto che effettivamente è partito, sì, come un gioco, però zitto a zitto stai arrivando a, cioè l'attività è così tanto, è così tanta che è un vero e proprio lavoro, effettivamente. Perché poi, come ci dicevi, non segui solo questo, segui anche altre pagine. La prima appunto è Egnapo Sofano, questa qua che effettivamente è molto ironica quest'altra. Adesso magari ne diamo giusto un piccolo accenno, perché io ti ho scoperto così, nel senso che Girovaganni in rete abbiamo appunto visto che, insomma, mi piacciono anche le pagine ironiche, sono forse quelle che sulla rete vanno più per la maggiore, se vogliamo. E quindi, insomma, partendo da questo siamo arrivati invece a scoprire quest'altra pagina. Potrei riempirti domande su tante cose, proprio perché in settimana ho visto anche delle cose che mi sono anche interessate molto. Per esempio, una cosa, quando ho letto Un nuovo matrimonio in casa Forrester qualche cosa è oggi, credo. Allora io ho cercato di... perché mi ricordavo questa parola Forrester, no? Nei miei meandri. E poi, dopo, ho continuato a leggere e ho letto Beautiful. Anche ha detto, ma ancora lo danno, Beautiful. Ancora lo danno. E tu lo segui, ma tu le segui tutte queste cose? Allora, sono sincera, io seguo tantissimo la Mediaset. Non seguo la Rai. Pago il canone, ma non seguo la Rai. Sono appassionata di soppopera. Io seguo il segreto, seguo una vita, uomini e donne. Un po' salzone? Non lo seguo, perché è Rai. Ah, beh, su, hai ragione. Mi sono fregato la sua. Non, infatti. Quindi seguo tanto la Mediaset. Ho capito. Quindi diciamo che Mediaset ti ringrazierà per questo tuo... No, effettivamente. No, è vero, effettivamente. Non vuoi neanche sapere quando scoprirai Skype che cosa accadrà, ma lasciamo stare. Non rimpiamo di altre informazioni. Non posso seguire tante cose. Mi ci vorrebbero un paio di monitor, sai. Esatto. E anche qualche collaboratore, no? Federico ci chiede, dalla chat di radioscience.it, domandina per l'ospite. Si avvale dell'aiuto di qualche collaboratore? Vedi, a proposito. Sì. O sei da sola? Siamo tre sorelle, quindi mi aiuta mia sorella. La più piccolina mi programma. Poi ho mia nipote, che scrive. Sì. E la maggior parte del lavoro, però, lo faccio io, perché ho le ricerche e i guai a chi me le tocca. Non mi piace mettere la notizia a bufala, perché disorienta il full over che ti viene a cercare. Quindi io le bufale le lascio agli altri. La notizia, se è vera è vera. Se non è vera, passo oltre. È bella anche questa cosa, come c'è anche una selezione, una scrematura, anzi. Nel senso che mi piace questa cosa del no bufale, proprio perché tantissime volte si è sentito, soprattutto su Facebook, quante bufale girassere e quant'altro. Invece già questa cosa ti fa, ti fa anche un uomo se vogliamo, nel senso che pur essendo comunque un argomento leggero, però è anche bello non mettere, cioè pensarci un po' di più, perderci più tempo, eccetera. Quindi, insomma, come ti ho detto, la bufala disorienta l'utente. Dice, ma come? Io lì ho letto che non è vero, poi vado dall'altra parte e sì, è vero. Quindi tu perdi anche credibilità. Cioè, perdi credibilità. Io il full over, cioè l'utente, io me lo devo tenere. A me piace che lui mi commenta, perché io sotto gli devo rispondere. Perché devo rispondere sotto ad un insulto? Non è bellino da vedere. Quindi c'è, qui traspare anche una logica, adesso qui entro un pochino più in tecnico, quasi commerciale, di fidelizzare il fan, no? No, nel senso che ci sta, nel senso che poi la logica è proprio quella. Ogni tanto do sempre un occhio all'orario, perché è passato quasi il primo quarto d'ora di questa puntata, che sta andando veramente via velocissimamente già. E quindi noi mandiamo il primo brano di questa sera, Rita. Noi devi sapere che su radioscience.it cerchiamo di mandare soprattutto musiche sotto licenza Creative Commons, che è libera e fruibile a tutti. Talvolta, come in questo caso, ci sono dei ottimi brani, dei ottimi artisti che magari non sono conosciuti, diciamo, sui grandi media, no? Le grandi radio, i grandi network. E noi, insomma, nel nostro piccolo cerchiamo di dare spazio anche a loro. Questa sera Sajus ha selezionato degli artisti, pescati da giamento.com, tra l'altro Sajus, qui apro e chiudo parentesi, ho visto che mi hai mandato il link del meglio di marzo 2017, quindi voglio capire che hai fatto una selezione di quella, di quelle popolo. Ti piace vincere facile? Cioè, certamente, questa sera non potevo fare brutta figura. Ponci, 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 ponci. E quindi mandiamo questa sera. Il primo brano delle 22.15 è Adil Farouk, Take Me High. Prego, Sajus, quel primo brano. A tra poco. Partito! I think of you, there's a smile on my face. I look at you, night's turn into days. Nothing can come but breathe, you and me. I see us together to eternity. When you are near me, heaven is what I feel. My life is but a rainbow, you are the color. My life is elevation, you take me higher. I touch your hand, I can reach, the sky's above. I kiss your lips and I know. What is love? Now I know how to write The perfect song for you I believe honestly Words can be more true Endless joy You've brought me through My life is but a rainbow You are the color My life is elevation You take me higher Oh Grazie a tutti 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 Tutti i tronisti e troniste di uomini e donne Seguo veramente tante tante di quelle persone che a volte me le perdo, pubblicano le cose e le perdo Ho detto che il prossimo regalo voglio un doppio monitor perché mi occorre Quando fanno queste serate in giro ti mandano i biglietti di omaggio, gli accrediti, come funziona? Io non ricevo nulla da nessuno, non mi ha avuto nessun invito, sono ancora piccola, sono nata tre anni fa Per ora è il motore di ricerca Google che sta iniziando a posizionarmi nelle prime pagine Ovviamente ritornando sempre al discorso di prima, no articoli copiati perché io non copio da nessuno Non ho articoli bufale, anzi forse molte volte capita che sono gli altri che copiano da me ma ciò mi aiuta a crescere perché significa che allora sul social mi trovano e mi copiano Esatto, esatto e ti chiedo questo adesso parlando anche un pochino di numeri se vogliamo perché c'è questa unità di misura come dico sempre che è questo famoso like no? E che però talvolta è un po' dispersivo nel senso che sì ok mi hanno messo like ma poi non mi seguono mai oppure al contrario Può darsi che sono sempre lì a seguire e quant'altro Con tutte queste pagine e poi poi i blog e quant'altro ma con tutte queste pagine effettivamente ci sono dei numeri importanti Nel senso che per esempio Spettacolando.it ne ha 71.000 quasi 72.000 e il Gna posso fare se non sbaglio ne ha 65-64 eroti me l'ho scritto da qualche parte Quindi sai i miei appunti mi svolazzano perché hai così tanti numeri che faccio fatica a starci dietro Quindi la domanda è, tu dici eh sono piccolo, sono nata tre anni fa come blog, pagine e quant'altro Ti aspettavi dei numeri così importanti? No, non mi aspettavo neanche, cioè allora Facebook è una cosa e il social è un altro Quindi anche i numeri che io faccio sul blog non me ne aspettavo Perché tu dici ok sulla pagina ti seguono 70.000 utenti Però io sul blog faccio circa 20-25.000 visite al giorno Quindi sono numeri ben differenti Eh sì, eh sì, è eccedente Anche perché proprio È stato appreso Eh esatto, perché magari per esempio like, oh tu mi sono like e buonanotte Mentre le visite continue al sito, al blog, quelle veramente sono Ti fanno capire anche l'attaccamento che c'è alla tua pagina E può darsi che non ti seguono solamente utenti, tra virgolette, normali Ma proprio anche esperti del settore se vogliamo Perché Adesso poi spettacolando.it in particolar modo È un sito, è un blog veramente molto ricco di informazioni Quindi a questo punto di vista insomma ce n'è Tra l'altro ho sentito un rumorino in cuffia Che vuol dire che è arrivato un messaggio in un chat Eccolo qua Sempre Federico Questa sera Anzi che ho scritto un tema Federico Aspetta un attimo Alla coca Allora No, scherzo a parte Federico ci dice Da come ne parli sembra più una missione la tua E trovo il tutto molto bello e avvincente Da quanto ti piace il pettegolezzo? Il gossip, no? E rimanendo in tema C'è qualche curiosità su qualche personaggio famoso? Eh qui ce ne sarebbe da dire secondo me Quindi partiamo con ordine, dai La più facile Da quanto ti piace il gossip? Otto Otto cosa? Otto veramente Eh? No, la scala da una a dieci mi piace No, no, scusami Da quanto tempo ti piace il gossip? Cioè da quando sei bambina o? Ah, da quanto tempo? Sì, sì, sì Sì, sì Sì, sì Sì, più quanto cresci Che inizi a vedere la televisione con occhi diversi Ah, ho capito Da un paio di anni Da una decina di anni Oh però E invece per quello che riguarda Adesso si vede che Federico C'è questa curiosità A questo punto Tu hai qualcosa di particolare Da raccontare su qualche personaggio famoso Che magari ti è rimasta impressa Su personaggi famosi? Ma guarda Più su uomini e donne Questo fatto che loro si scelgono Poi escono fuori Due o tre mesi In notorietà Poi si lasciano E poi dopo gli utenti Giustamente ecco Come succede su Facebook Ma perché non si rimettono insieme? Se era una bella coppia Quindi è quello Quello che più ti resta in mente Dici ma guarda un po' Prima criticano E certo che è incredibile Come no? Anche un programma Adesso mi viene in mente Uomini e donne E come si sia Amplificato Tutto ciò che succede Da quando magari Tutto si è spostato Molto di più sulla rete Se vogliamo Nel senso che Sento un rumore Di sottofondo Senturi Davvero? No Sento solo io Con un piccolo disturbo Ah no ok Perfetto No no adesso è a posta È a posta Ogni tanto Skype ci regala Queste emozioni Come vedi No ok No quindi dicevamo Che effettivamente Come tutto si sia amplificato Da quando c'è La rete Anche magari Su una cosa come Uomini e donne E ti chiedo questo Tu hai mai pensato Di partecipare a un programma Come quello Visto che comunque Lo segui così tanto Magari conosci anche i trucchi Se vogliamo No perché sono felicemente Fidanzata da sei anni Quindi Lascio agli altri E quella è una discriminante Te lo dico Quello dico non sia una discriminante Per partecipare A Uomini e donne Effettivamente Quindi È giusto Braviglia Così ti diamo anche le indicazioni Agli ascoltatori Perfetto E tornando invece a noi Anzi no guarda Torniamo a Sayuz Così Visto che È lì che freme Ti passo subito la parola Caro Sayuz Perché immagino che Anche tu vorrei fare qualche domanda A Rita Innanzitutto ti chiedo io Sayuz Cosa ne pensi di Spettacolando.it Ma guarda Luca Spettacolando.it Mi spettegulesse Non è che mi stanno Mi attirano molto Però sto notando Un sacco di cose Molto interessanti Soprattutto sul sito Spettacolando.it Ma mini simpile Non ti metti in difficoltà Dimmi No Scherzi a parte No La pagina Che preferisco di più Del sito E sono i dolci Spettacoliamo un attimo Su questo tiramisù Di nutella e panna Senza uova Perché è una cosa Meravigliosa C'è una foto Ragazzi Andatevola a vedere Perché È spettacolare Tarde che io amo Questi dolci Quindi insomma Eh Cara Carissima Cara Rita No Scusami Ma lì fai Scusami Scusami Rita Quando Saizu Fa così Vuol dire che Non si dimentica Del tuo nome Si dimentica Il nome Dell'O Sì L'Alzheimer Quello che intanto Lo colpisce No L'Alzheimer No Perché più che altro È il dolce Di questo tiramisù Io amo Il tiramisù Il tiramisù Li hai preparati tu Chi hai preparato Sti dolci Che sono anche Quelli da vedere Nelle foto La foto di mia cognata Sono sincera Ah capa Vedi che è proprio Tutta la gestione familiare Bravissima Guarda È molto brava Cioè Quello che vedo Dalle immagini Poi ovviamente Mi piace ribassaggiarlo Porca miseria Va bene Però Va bene Passando a noi Adesso C'è una cosa Che mi ha colpito Tu sei Ogni tanto Ti piace mettere Dei giochini Sulla tua pagina Faceboc Cara Rita Dei giochini Sì Per attirare l'utente Perfetto Perché c'è questo giochino Che mi sta facendo Pazzire Non lo voglio Riuscite a bloccarla Pronti Via i commenti Cioè Mi sta uccidendo Non ci ho azzeccato Una volta Mentre voi parlavate Ero lì che tentavo In tutti i modi Perché ho visto Che se ci azzecchi Puoi farla diventare Una gif Una gif Come si dice E poi viene messa Sotto il tuo nome Giusto? Io non so Cosa ti abbia chiesto Perciò non chiedere Non mi chiedere Una volta che l'hai L'hai chiappata Sta gif L'hai diciamo Centrata Viene messa Ho visto che viene messa Diciamo come premio Insieme al nome Della persona Che ci è riuscito Perché vedo che Vedo che ci sono Due persone soltanto Che ci sono riuscite Insomma A centrare l'immagine No 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 Ce ne sono 19 persone Infatti una signora Ha scritto Anche fatta A terzo tentativo È facile Perché non Ha molte cose E allora Saiuz è un vecchietto Che ha la mano tremolante Ma sai Devi fare il refresh Il refresh della pagina Il refresh della pagina Si riesco No Scherzo a parte Comunque no Complimenti più che altro Al blog Cioè Alla pagina Spettacolando.it Perché è ben fatta Come pagina Per quanto mi riguarda Ho visto che è anche Abbastanza veloce Nell'andare A scuriosare Dentro Tra gossip Participazione tv Eccetera eccetera Ma E come hai detto Prima Qui tu segui Il mondo Sto spettacolando Perché tutto ciò Che sono Soppopera O qualcosa Del genere Tu le segui tutte Peccato Che non segui Il posto al sole Mi dispiace Hai sentito Hai sentito Questa critica Di Saiz Esatto Ma dottore Hai capito È solo Mediaset Sì sì Non lo so L'ha regalato L'abbonamento Quest'anno E quindi ha deciso Di seguire Solo Mediaset Va bene Ok Allora quindi Riponiamo Comunque Mi raccomando Il tiramisù Per me Per il vecchietto Te lo manderà Come raccomandare Dicevo Riponiamo Il vecchio Saiz Nell'armadio E infatti Nell'armadio E ritorniamo Quindi un pochino A scuriosare Come dicevamo prima Anche le ricette Pagine Blog C'è di tutto un po' Veramente Tantissimi Tanti like Questo rapporto Con i fan Invece Com'è Nel senso che Poi il vero fan Si vede nei commenti Se vogliamo Lì come Ho visto che comunque C'è un certo seguito Anche lì Tanti commenti Tante condivisioni Qualche critica Arriva Critica no Sono sincera Forse All'inizio Sono arrivate Perché io Ho utilizzato Spettacolando Per le ricette Infatti Molte persone Mi dicevano Ma come Stiamo spettacolando Vedo solo ricette Non c'è nulla Da spettacolare Quindi da allora Ho iniziato a cambiare Ho detto Se volete Il gossip Io ve lo do Ma ogni cosa A suo tempo Ho capito E quindi Diciamo che È un'isola felice Questa qui C'è nessuno Adesso Ti critica più La pagina Va fortissima C'è le ricette E per quello che riguarda Invece Il benessere Che a questo punto È venuta Questa curiosità Che curi anche Cioè Tutto questo Curi anche Una pagina Che appunto Parla di benessere Ma perché Ma perché Metti in campo Diciamo Questa è la stagione Ogni puntata Ogni giovedì Abbiamo Questo ospite Che ci racconta E si racconta E da questo punto di vista Però È anche bello Conoscere Diciamo Approcciarsi Con delle pagine Dove Partendo Da una pagina Che non c'entrava nulla Paradossalmente È una cosa Non ne ha posso fare Leggerissime E quant'altro Siamo arrivati Pian piano A scoprire Comunque una persona Che Zitta zitta Guarda quante cose fa E che numeri È anche raggiunto Scusami Raggiunge E quindi dai Tra l'altro vedo Che è arrivato Un messaggio in chat Che mi è passato Adesso Testa di casa Un anonimo Su radioscience.it Sempre ci dice Che l'unica dieta Da fare È quella del gelato Alla birra Questa cosa Non la so Chissà se la troveremo Se la sarà Ok perfetto Dopo torno di nuovo In comunità E Alcolisti Perfetto Che bello I nostri ascoltatori Di sites Sono sempre migliori Comunque Ci si fanno sempre Riconoscere Che bello Va bene Troveremo questa dieta Rita magari Sulla tua pagina Di benessere Chi lo sa Va bene Chi sa La prendere in considerazione Ok Sempre nel fornone Mi dicevi varie cose Da dove vieni Ce l'hai detto La tua età Da quanto tempo Ti si è approcciata A questo mondo Social E quant'altro E che effettivamente Tu come attività Adesso fai questo Cioè questo è diventato Il tuo lavoro Il mio lavoro Perché non ho tempo Per fare altro Cioè Il pc Ti cattura Tu come ho detto prima Tu accendi E resti là Ore e ore Esatto Io penso al pc E poi il cellulare Come la metti Nel senso che Poi c'è anche quello No? Ma? Io uso entrambi Esatto Fuori casa Uso il cellulare Infatti l'ho dovuto cambiare Perché è partito Che rotta E no Ma ci credo Perché con i ritmi Che hai tu È pazzesco Cioè Tu veramente Nel bene e nel male Non è mica Non vorrà mai essere Una critica Ci mancherebbe Però effettivamente È molto tempo Passato davanti A uno schermo Nel bene e nel male Poi no? Quindi diciamo Che questa cosa Ti dà anche un'idea Di come Di come siamo cambiati Se vogliamo Anche i tempi Dico una cosa Che può essere Che è una banalità Se vogliamo Però è interessante Come di fatti Tu rappresenti bene Questo Questo cambiamento Per come la vedo Cosa ne dici? Questo è il futuro Solo questo Ti dico Cioè oggi Come già ho detto prima La mia aiutante E mia sorella Ha 11 anni E già gli sto spiegando Tutti i meccanismi Che Non trovando Comunque oggi Penso un lavoro fuori Oppure ti devi spostare all'estero Sai che ti puoi affidare A un computer A un mouse E puoi trovare Un lavoro Sulla social Esatto Esatto Sì 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 Questo è il futuro Quindi diciamo Che prima di mandare Il secondo brano Possiamo dire che Adesso non voglio fare Tipo il filosofo Ma comunque Questo è il futuro Si va in questa direzione O forse Non è che si va Ci siamo già Abbiamo già Entrappreso questa strada Quindi O abbracciamo Questo modo Di vivere Di operare Eccetera Oppure insomma Ne veniamo Comunque in qualche modo Siamo scaravoltati In questa realtà C'è poco C'è poco da fare Quindi è una cosa Interessante Se vogliamo Vedi che Social Evolution Ogni tanto Ci dà anche Qualche spunto Pseudo intelligente Ogni tanto Non sempre Dipende Vedi che Quando abbiamo L'ospite giusto Riusciamo anche A dare qualche indicazione Allora Rita Ascoltiamo un altro brano Questa volta Sempre chiaramente Campionato E selezionato Al grande Grosso Sayuz I suoi Le sue tecniche Di selezione Sono molto semplici Lui guarda Quelli più scaricati Li prende e li butta in rete E' fantastico Che grande direttore artistico Che abbiamo E quindi Mandiamo Il brano di Brady Harris Con Kate Stay Late Vai Sayuz Partito I'll never get the chance to say It's you I love Oh the night is young I want you I need you Tell me girl What is on your mind Tonight I'll make you feel alright I need you I want you All the stars that light the sky The sky so bright They shine for us tonight Okay Stay late If you ever need someone to talk to I'll be here just for you I'll be here just for you Every now and then I feel It's gonna come my way Yeah Every now and then I feel It's gonna go my way Hey 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 Do 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 Hey Hey Do 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 Oh hey Don't let tonight slip away I'll never get the chance to say It's you I love Okay I know you're the one I want you I need you Tell me girl What is on your mind Tonight I'll make you feel alright I need you I want you All the stars that light the sky so bright They shine for us tonight Shine for us tonight Shine for you and I You and I We're on the show We're on the show We're on the show Social evolution Sempre su radiosites.it Chiaramente questa sera Vi ho riempito la testa Con son radiosites.it Ma da contratto ve lo devo dire No non è vero Sto scherzando Ricordiamo sempre che Radiosites Mi dimentico sempre dirlo Veros Aiuzzolo è un network indipendente senza alcuno scopo di lucro che cerca insomma di dare spazio e voce a tutti non che Rita questa sera ne abbia bisogno sia chiaro però diciamo anche all'interno della normale programmazione di Radio Science vi sono molti altri programmi che appunto parlano di argomenti vari senza entrare troppo nel dettaglio e insomma vi invitiamo a darci uno che poi magari siamo sempre pronti a ricevere un feedback da parte vostra ritorniamo invece in diretta questa sera la chat si è mostrata abbastanza ci ha fatto qualche domanda qualche domanda che tra l'altro ti avrei voluto fare anch'io la prima domanda che ti hanno fatto quella sul collaboratore ero curioso di sapere anch'io quanti eravate 20-30 persone alla dieta invece siete in tre tu, sorella, cognata, nipote quello che è insomma è bello come questa cosa sia quasi a livello familiare che però riusciate ad affacciarvi così bene sul mondo insomma adesso stai creando una sorta di generazione di gossipari se vogliamo esatto bravo sai che stai creando tu stai scherzando ma questa è una reazione a catena mia sorella di bravo sì diciamo così è una reazione a catena io insegno tu fai se tu possi fare avrai anche tu un giorno un tuo blog che ne so se sei appassionata di qualcosa lo apriamo quindi tutto iniziare esatto e in tutto questo tu dicevi tutto iniziare stai creando generazioni X potremmo chiamarla ma adesso come cioè tutto questo lavoro riuscite a gestirlo oppure state cercando nuovi collaboratori per ora ne siamo quattro io curro tutte le parti della ricerca mia sorella di undici anni mi programma le pagine attraverso un programma mia sorella di diciotto anni scrive per il benessere e poi mi ha guagnata anche lei di diciotto anni che anche le scrive per il benessere e poi mi dà una mano con le ricerche quindi io sono la mente e loro sono tutti i neuroni che mi stanno intorno per esempio papà e mamma tornano a casa e dicono ma che cacchio ma questo non ne escono mai e invece è che state sempre davanti no però scherzappate effettivamente dà sempre quasi l'idea di come di come i ragazzi si stanno andando veramente in una direzione che anche l'impostazione che hai dato non abbiamo dato secondo me abbastanza importanza a questa cosa e ce l'hai detto ce l'hai definita adesso no e l'organizzazione come sia tutto ognuno ha i suoi compiti le sue mansioni e questa cosa è quasi un'idea più che da pagina d'azienda no perché effettivamente poi questo è se ci pensi no è una sorta di azienda che sta che è giusto che vada a dare a turburi compiti responsabilità mansione e quant'altro mi è piaciuto anche durante la puntata che hai dato anche delle indicazioni su quelle che potevano essere lo spirito anche commerciale quasi e anche di marketing di come va impostata anche una pagina perché effettivamente non c'è solo dietro l'organizzazione ma c'è anche diciamo l'idea queste idee diciamo che tu hai avuto tempo fa vedo che si sta sta andando veramente in un'ottima direzione ma adesso dove intendi arrivare con tutto quello che fai? dove intendo arrivare? il più alto possibile e il più in alto sì e il più in alto sì dimmi 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 no no dimmi no dicevo e il più in alto come lo quantifichi cioè come visite come non lo so ospitate in qualche tv in qualche grande media o come lo quantifichi? no ospitate no perché sono molto timida quindi preferisco che le persone sappiano che si sta spettacolando che su spettacolando possono trovare la notizia vera e che quindi la voce si passa ecco che possono spettacolare in rete su spettacolando cioè questo è spettacolando al cubo praticamente bravo e poi stiamo stiamo pensando sempre in famiglia di mettere un'opzione dove sono gli altri che possono scrivere per noi quindi è una cosa da prendere in considerazione ovviamente senza sfruttare nessuno retribuiti come come poi si vedrà anche questa diciamo è una bella idea se ci pensi nel senso che vedi tutte queste idee sono veramente fantastiche nel senso che non vi fermate solo a questo io poi uso il plurale chiaramente perché sto parlando da tutta la squadra in qualche modo però ovvio che detto tutto questo credo che la mente mi pare di capire di capire sia più che altro tu però è bella questa cosa di dare anche la possibilità l'opportunità di tu è ritribuita a qualcuno di contribuire tornando invece alla chat che l'ho lasciato un pochino da parte sono arrivati altri messaggi intanto Gianluca che ci saluta è solo un saluto ciao Gianluca lo salutiamo Gianluca invece è un collaboratore anche tu di Radio Science che di fatti gestisce un altro programma vedo che ci sta ascoltando questa sera e invece un anonimo ci dice pensato mai di fare dei video in Sile Tg questa è un'altra buona idea ma no ritornando solo lo stesso discorso a parte che sono timida quando mi piace mostrarmi e diffondere poi una notizia se poi dopo non è veritiera quindi lascia agli altri questo lavoro preferisco scrivere ci hai messo poi la faccia in quel caso ha maggior ragione bravo è stato anche peggio bravo non lo rischio insomma comunque sono tutte bella vedi come anche dalla chat arrivino qualche qualche idee se vogliamo poi chiaramente le idee sono sempre ben accette poi ognuno le valuta interessante molto molto interessante come dicevamo tu sei sì sei sulla rete a tutti gli effetti direi come non solo come amministratrice di tante cose non le stiamo arrivo a dire che il messaggio sia passato sia passato bene ma sei anche un utente quindi diciamo che come utente sicuramente avrai e seguirai magari delle pagine che ti piacciono particolarmente che non sono tue però che però ti piacciono seguo seguo tantissime pagine esatto quali sono le pagine che preferisci magari se ne vuoi anche al di là di quelle legate ai VIP chiaramente se vuoi anche quelle vanno benissimo ma come scusami qualche testata che seguo sì un tipo fanpage seguo fanpage seguo tgcom le testate quelle là che più sono sicura che lì sopra la bufala non esce ok perché io non amo scrivere bufale ma non amo leggere le bufale è certo quindi seguo le pagine che so che sono vere quindi tgcom fanpage mi sono dimenticata l'altro nome leggo anche lo si si e diciamo che se ho capito a me ti piace giustamente anche non leggere le bufale quindi ti basi su quelli che sai che per insomma storicamente non ho mai dato fregature diciamo così l'ho detto un po' alla è anche l'orario che ci piace parlare un po' Federico ci chiede anche se mi sa che hai già risposto a questa domanda se non sono troppo indiscreto quanti anni hai l'abbiamo già detto nei 27 giusto 27 il prossimo ottobre ah quindi ancora 26 e mezzo Federico 26 e mezzo Federico sei un vecchietto lo sai Federico stai lontano no scherzo a parte senti al di là di punto delle pagine da cui prendi anche spunto se vogliamo fanpage leggo e quant'altro ma come invece pagine anche di così anche leggero impegnato che ti piace seguire che non sono direttamente collegata alla tua pagina c'è qualcosa che segui poi ti spiego perché questa domanda può perché magari se c'è nelle pagine che tu in qualche modo mi consiglierai e che appunto segui farò un pochino come ho fatto con te magari li contatterò e magari li porterò sempre qui in diretta su social evolution allora per quello te lo chiedo anche per una mia curiosità personale sì ci sono alcune pagine che trattano la mia stessa tematica le seguo tipo c'è il fosco e salvo original gli apostoli dell'amore sono carine come pagine le seguo hanno anche loro tantissimi fan a volte ci facciamo degli scambi sai io ti do il mio link tu mi del tuo sì quindi c'è anche una sorta di collaborazione se vogliamo c'è anche la collaborazione sì se vuoi andare avanti devi collaborare io mi faccio conoscere dagli altri e tu mi fai conoscere dagli altri certo se non ci si aiuta anche sul social ah no no a maggior ragione forse la parola penso condividere negli ultimi 8 7 8 anni sia stata utilizzata quasi quasi abusata se vogliamo se ci pensi io prima la parola condividere usavo pochissimo io fino al 2008 2009 non l'ho mai usata poi da quando è uscito è uscito poi è salito alla ribalta più che altro facebook sicuramente è stata una delle parole più insieme a taggato credo che sia la parola più utilizzata negli ultimi 10 anni quindi ma la domanda è un'altra Luca se un giorno facebook scompare cosa succede? sai cosa ti dico? infatti se vieni chiuso facebook cosa succede? allora tu vabbè tu ti suicidi no vabbè io continuo su social infatti hai tutt'altro il blog però sai che questa domanda che fai ti ringrazio perché hai fatto tu la domanda a me quasi è una domanda che in realtà guarda io adesso me la sono scritta proprio perché credo che saranno una di quelle domande che così come all'inizio della puntata chiedo come si chiama la tua pagina così per rompere il ghiaccio questa potrebbe essere quasi una domanda sul finale nel senso per chiusare una puntata e se facebook sparisse non è male come bellissimo bellissimo spunto senti un anonimo sempre dalla chat ci chiede ma riesci a ritagliare del tempo per te stessa è bella domanda questa certo infatti ho dei vari quando? io lavoro dalle 8 alle 16 vado in palestra ritorno a casa ceno poi ritorno al C dalle 20 alle 23 alle 24 a volte ho fatto anche le 2 alle 3 di notte aspetta sto facendo i conti quindi 8 più mi sono 13 14 ore diciamo che rispondiamo all'anonimo si riesce a tagliare il tempo per se stessa circa un quarto d'ora ogni ogni 6 ore però comunque si grossomodo no va bene il bello è che ora ti sei dato aggiustamente una pianificazione proprio sempre ritornando al discorso della organizzazione le mansioni eccetera però è anche vero che c'è questa idea che tu possa utilizzare il tempo che vuoi nell'arco della giornata anche se poi lo vai a vedere non è così perché effettivamente ti prende tanto tempo però il problema è se nasce un imprevisto se nasce un imprevisto ti trovi sottosopra eh già è vero questa cosa se rimani che so a piedi con la macchina non riesci a tornare a casa in tempo è un casino o se è stata la connessione se è senza connessione e cerchi qualche rete libera dei vicini no è vero mi immagino che tu scritti ma sembra veramente una barzanetta ma credo che accada veramente questo è vero che perché poi essendo a livello familiare credo che siate tutte vicine in qualche modo o vivete lontane adesso non so come sia no no io vivo ancora con i miei ok quindi diciamo vedi da maggior ragione la connessione è quella dovete no è fantastico bella è questa puntata come sia andata veramente adesso poi sai se l'abbiamo lasciata in un angolo a un certo punto proprio perché faccio sempre così a metà puntata gli diamo gli do lo spazio perché è giusto che è lui il padrone di casa sono in qualche modo anche un ospite della radio con questo programma quindi abbiamo lasciato un pochino da parte proprio perché ci hai raccontato tante cose hai rubato letteralmente come è giusto che sia la scena e ci hai raccontato tante cose e ci hai dato anche tanti spunti e questo ci piace in tutto questo stavo pensando mentre tu raccontavi il fatto della connessione ho pensato ma voi tipo non so se tu due settimane verso per agosto vai in ferie cosa fai programmi tutte le cose a luglio che partiranno esattamente no da luglio io inizio da giugno no perché veramente diventa non hai giorni di ferie se vogliamo perché no vabbè una settimana una settimana all'anno la prendo proprio per per riposare ma non sarà troppo un all'anno dai credo che con i tempi che corrono un all'anno è troppo fai due tre giorni un weekend un weekend al massimo no perché io ne approfitto nel periodo in cui il gossip non è tanto acceso le soppo vanno in ferie e quindi vado anche io in ferie quindi è tutto programmato questa cosa mi sta mettendo i brividi te lo giuro avrò gli incubi questa notte dopo questa puntata no vabbè no sognerai tutto il rosa stanotte poveri noi poveri noi allora va bene facciamo un pochino il punto è una situazione che come vedi siamo veramente agli sgoccioli di questa puntata è bello mi piace pensare di come siamo partiti così lontano parlando di spettegolando.it e come siamo invece arrivati correggimi si sbaglio Rita a parlare di tante cose anche delle dinamiche che ruotano dietro dietro facebook i post come possono andare il sito il blog che paradossalmente va ancora più forte delle pagine facebook e di tutto un po' veramente tante cose quello che mi chiedo come argomenti avrete in futuro idee farete mi sono già impappinata questo ora lo faccio spesso di impappinarmi ci saranno argomenti nuovi sulla pagina dico al di là di questi macro argomenti che sono appunto i gossip ricette benessere quant'altro farete qualcosa di nuovo o al momento continuate su questa strada siamo per ora continuiamo così le persone ci conoscono per questo e continueremo così poi si arriveranno i suggerimenti o qualcuno vuole qualcosa in particolare prenderemo in considerazione la loro richiesta quindi per ora si continua per questa strada che sta è tutta in salita e il moroso cosa pensa il moroso in realtà perché sto citando Federico è uaiono come dicono giù ma il ragazzo cosa pensi di tutto ciò c'è anche lui dentro è un programmatore quindi siamo tutti una famiglia di pazzi hai fregato tutti hai fregato tutti incredibili senti la tua amica anche lei fa la grafica no incredibile non lo so faccio un esempio cioè è pazzesca questa cosa non ha lasciato nessuno fuori sai sei capito come devi fare tu tu devi coinvolgere qualsiasi soggetto del nucleo familiare guarda che sto mettendo diciamo nei miei pensieri per il momento sto facendo tesoro di quello che sta dicendo Rita mi sono ricordato il nome Rita bello sempre un cavaliere sei comunque sai senti ma in tutto questo sai scherzi a parte ma quanti spunti ci ha dato Rita questa sera eh ma non solo a noi a tutti i nostri ascoltatori insomma ha dato un sacco di spunti insomma ma la cosa io rimango sempre sul tiramisù ragazzi no incredibile dopo aver parlato di qualsiasi cosa lui giustamente è rimasto 47 minuti fa in cui abbiamo parlato il tiramisù e quindi questo ti fa capire anche il livello della regia che regia che abbiamo che regia va bene allora Rita mi ha visto che come hai visto siamo ai sgocci di questa puntata io ti lascio la parola come è giusto so fare alla fine appunto della puntata proprio perché così hai anche la possibilità di salutare a voce gli ascoltatori di questa sera e chiaramente anche i tuoi fan che adesso poi lo dirò ci possono ascoltare in podcast quindi dai ti lascio la parola per questi ultimi minuti così se vuoi salutare anche tutta la tutti i tuoi fan vai pure vabbè in primis ringrazio voi per l'opportunità che mi avete dato ora sapete chi sono quindi continuate a seguirmi e come già detto ogni consiglio è ben accetto tanto basta solo tramite la chat scrivetemi non mostrate il vostro viso se avete vergogna e io starò lì subito pronta a rispondervi se non ci sono io c'è mia sorella se non c'è mia sorella c'è mio fidanzato o mia cognata è tutta una condizione familiare non vi preoccupate non mordono diciamo non mordono esatto io ho un carguinzaio quindi non mordono ah ecco perché non mordo se mi dice pensate che stupido che sono pensavo no va benissimo sono io quella che morde ok allora dopo ho fatto il cavaliere ti ho lasciato la parola adesso giustamente cosa faccio la lascio al più anziano quindi prego se vuoi salutare gli ascoltatori chiaramente anche Rita certamente Luca ringrazio Rita per per gli spunti che mi ha dato e per il tiramisù che mi farà assaggiare più avanti insomma quando vorrà scherzi a parte volevo salutare tutto il condominio di Radio Science ricordando che questa puntata come al solito da domani la troveranno su Youtube e poi verrà riprogrammata in replica sulla web radio e la web tv ovviamente siamo andati su Facebook quindi insomma appena chiudiamo qui la troveranno già su Facebook per chi volesse riascoltarla oppure farla ascoltare o condividerla un caro abbraccio a tutti quanti Luca ti ripasso la palla Rita aspetto tirami su mi raccomando quando hai detto condividerla mi è venuta la pelle d'oca guarda hai usato un'enfasi che mi ha lasciato quasi mamma mia ho ancora la storia mi devo riprendere sembravi tipo Antonio Banderas con Rossita condividerla comunque scherzi a parte saluto chiaramente Rita ti ringrazio innanzitutto per la tua disponibilità questa sera ho già detto all'inizio anche il fuoriondo ma mi piace rimarcare questa cosa che non è mai così scontata e soprattutto grazie per che ci hai fatto conoscere veramente un po' di più un altro pezzo di rete di Facebook ma non solo blog e tutte le cose che fai complimenti veramente non lo dico tanto per saluto chiaramente gli ascoltatori che ci hanno seguito questa sera in particolar modo chi ci ha scritto quindi che ha avuto anche il piacere di interagire in qualche modo con noi e soprattutto con te Rita e io cosa dico ci aggiorniamo a giovedì prossimo chiaramente che noi come ogni giovedì ritorniamo sempre dalle ore 22 fino alle ore 23 circa sempre qui su Radio Science con Social Evolution quindi chi sarà l'ospite della vostra puntata non ve lo dica ancora anche se ce l'abbiamo già lì pronto a breve in questi giorni sulla pagina appunto vedrete l'evento come di consueto che dire io vi lascio con l'ultimo brano di questa sera sempre questi grandissimi brani che ci pesca Sajus dal mare magnum di Giamendo lui è Brian Hart con Miss You Bad bene vai col brano vado col brano però ricordandomi ciao Gianluca Gianluca è è Miss you go deep out like honey park Evening time come I want you right by my side Miss you back, Miss you back Girl you know I miss you back Miss you back, Miss you back Girl you know I miss you back Early as the sunrise she packed your bag and she tried Everybody needs a little alone time, alone time God knows I didn't mind cause I was caught up on the grind Thought she would be back on the block long before evening news headlines You left in the morning told me you'd be coming back soon But evening fall on you try to call you're not in my room Call me baby tell me you'll be here in a moment Too anxious and I can't wait till you're not in my door Baby you really got me perspiring Strange smoking I don't do but I'm sweating like spring Somebody tell me this isn't happening She's running from my eyes cause Miss you back, Miss you back Girl you know I miss you back Miss you back, Miss you back And I need to hear your Matsuro You know I miss you back You know I miss you back Miss you back, Miss you back That you know I miss you back You know you know I miss you back Early as the sunrise Before the birds swing on the wires As the rush drove me everything was fine Things was fine Love without question, to give her space, to give her time Thought she would be back in my arms even though there was no deadline You left in the morning, told me you'd be coming back soon Good evening, follow me, try to call her, not in my room Call me, baby, tell me you'll be here in a moment You ain't, you said I can't wait till you're knocked on my door Girl, it's just the love that I'm feeling, no Emotions up to the ceiling, no Ain't no life without you in it, girl You're so amazing Girl, you know I miss you Miss you bad, miss you bad Girl, you know I miss you Girl, you know I miss you Girl, you know I miss you It's so bad, it's so bad You know I can't go a day without you You know I can't go a day You know I can't go a day without you You know I can't go a day without you Yeah, baby, you know me full of pride but feelings, yeah Miss you with the roller coaster and water slide Like a shot gonna want you right by my side Miss you bad, miss you bad Girl, you know I miss you bad Miss you bad, miss you bad You know I can't go a day without you You know I can't go a day without you You know I can't go a day without you Oh, 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 oh Grazie.